And you say I will be the one to let me go Che lo spettacolo è benissimo popolo della Y, I am Phil ma qualche vecchio amico mi conosce anche come Virex Ed eccoci qui oggi in questo nuovissimo video di questo, su questo gioco che è uno dei miei giochi preferiti Vi narro in breve la mia storia prima di dirvi qual è il titolo che se ne... A parte l'avete visto dal titolo quindi sapete già di che cosa sto parlando Comunque, andremo a giocare Dark Souls 3, faremo una blind run perché io non ho mai giocato, non mi sono spoilerato assolutamente nulla Diciamo che la mia passione è The Day Souls, è partita tutta su Youtube Io prima di giocare Dark Souls 1 e Dark Souls 2 mi ero praticamente spoilerato gran parte del gioco però mi piacevano e li ho comprati Su questo Dark Souls 3 invece ho deciso di fare una cosa diversa, di non spoilerarmi assolutamente nulla Infatti io da quando escono video che di Youtube lo chiudo per sicurezza che magari mi poteva venire la tentazione Io non mi sono spoilerato assolutamente nulla, quindi non so nulla a zero E voglio provare con voi a capire qual è la vera lore, la vera trama, lore diciamo in termini tecnici di Dark Souls 3 Perché la 1 e la 2 appunto mi ero spoilerata, la 3 invece voglio provare a farla da solo Non ci ho mai provato, vedremo cosa ne esce poi Non so come strutturerò i video, nel senso la blind run in teoria dovrei farvi vedere tutto Però so che magari un video di un'ora potrebbe annoiare, magari uno di un quarto d'ora è meglio Quindi io cerco magari di un po' di farvi vedere quello che è importante nella lore Quindi i dialoghi, le descrizioni, però magari qualche punto morto Quindi magari dove non ci sono nemici oppure sto esplorando una zona che magari voi avete Vi ho già fatto vedere ma che magari ci sono tornato perché pensavo di aver lasciato una cosa Perché magari volevo rivedere meglio, ve lo taglierò Soprattutto ragazzi volevo parlarvi della facecam La facecam ragazzi ci sarà, ma il problema è questo Siccome io non sono abituato al fatto di vedere la telecamera Non sento se ho le cuffie quando si spegne Potrebbero capitare che ci sono i momenti in cui non c'è la facecam Quindi vi volevo chiedere a voi, va bene comunque Io metta la facecam, poi se si scarica la macchinetta e non me ne accorgo Finisce senza facecam E invece se me ne accorgo cambia la macchinetta oppure non mettere proprio la facecam Perché io volevo mettere la facecam perché volevo che voi vedesse la mia faccia quando gioco Perché già la colonna sonora mi ha mandato tipo in estasi E comunque nulla, io direi che forse è ora di iniziare Io non sto veramente più nella pelle quindi iniziamo Sì, inizio It is called Lothric Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge Inventuring north The pilgrims discover the truth of the old words The fire fades And the lords go without thrones When the link of fire is threatened The bell tolls The bell tolls Unearthing the old lords of Cinder from their graves Aldrich 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 Saint of the deep Aldrich Aldrich Faron's undead legion The abyss watchers And the reclusive lord of the profaned capital Yearned the giant Only in truth The lords will abandon their thrones And the unkindled will rise Nameless accursed undead Unfit even to be Cinder And so it is The dash seek of embers Wow Dico solo wow Scusatemi un attimo ragazzi Devo mandare un messaggio a un mio amico Perché aspettiamo questo gioco Cioè io lo aspetto da troppo Cioè devo assolutamente mandare il messaggio Ok Ok ragazzi Ci siamo Allora Facciamo una piccola analisi della intro In questo caso dice che il fuoco non è stato vincolato Quindi Mi tolgo le cuffie altrimenti non mi sento Partendo dal primo Dal primo direi che quando il fuoco non è vincolato Significa che nessuno si è sacrificato Per dare ancora vita alla fiamma Sto facendo Sto Sto iniziando a elaborare un po' un concetto Il che significa che la fiamma si sta spegnendo E questo è il perché delle ceneri Ok? Quindi I quattro Mi sembrano i quattro lord dei tizioni Signori dei tizioni Si risvegliano Si risvegliano In modo tale da poter poi Dar altro Altro fuoco Non credo di aver capito bene Alla fiamma Però Per farlo Lasciano i loro troni Ok? Anche se c'è un chiaro rimando Ai guardiani dell'abisso Non so perché Ma a me è venuto in mente Artorias Subito subito Però non so se c'entrerà qualcosa Però Vedremo Quindi Questi quattro si risvegliano Quattro mi sembra Quattro Adesso onestamente ho un attimo di defiance Perché Ehm Quindi Loro Devono Devono dare la fiamma E c'è un non morto Che però non merita di Di diventare un signore dei tizioni Ma che comunque Qualcosa deve fare E dobbiamo capire cosa Ovvero se Vincolare il fuoco E quindi ravvivarlo Oppure spegnerlo Questo ancora non l'ho capito Presumo che noi Lo dobbiamo ravvivare Però non lo so Vabbè comunque Pensiamo al personaggio Ah Per chi Non Cioè Nessuno di voi lo sa Perché è la prima volta che porto un Sols sul mio canale Però il nome L'ho scelto per un semplice motivo Perché se voi lo leggete da Destra verso sinistra È Solair No Scusate Ora è Solair Sì Ora è Solair Perché Solair? Perché Solair è uno dei miei personaggi preferiti di Dark Souls 1 E' uno dei personaggi che secondo me racchiude un po' tutto il senso di Dark Souls Quindi il fatto Di cercare un qualcosa In modo frenetico In modo continuo In fondo Solair cercava il suo sole Cercava la sua luce E poi quello che fa il non morto cerca Anzi sì Sì il non morto Cerca le anime Cerca le anime Per non diventare vuoto Per non perdere il senno Ed è quello che in fondo Faceva Faceva Solair Cercava il suo sole Le anime per il non morto sono il suo sole Quindi Ho deciso di chiamarlo Aerialos Ovviamente ragazzi Io non so se qui si parla di non morti Di esseri vuoti Non lo so Perché è la prima volta che gioco Quindi non so No Lo lascio maschio È giovane Adulto Anziano Adulto Classe Uh e qui ci divertiamo Cavaliere Un cavaliere sconosciuto Caduto durante le sue pericolazioni Sua resistenza deriva dall'alta vitalità E dall'armatura Però stavo pensando Sicuramente l'armatura peserà un botto Quindi poi l'armatura non ci servirà Però c'è un'alta armonizzazione Tempra Vigore Forza Mercenario Un mercenario Un mercenario sopravvissuto a molte battaglie Il drop rate Quindi La possibilità di droppare gli oggetti Quando muoio L'araldo mi piace Perché comunque il fatto che possa essere Diciamo Un chierico Che possa variare un po' questa cosa Mi potrebbe piacere Anche perché poi c'ha la lancia E la lancia non ho mai utilizzata Però quella Ragazzi Ne sta in tempo Un po' Individuale Perché tanto poi al massimo la cambio Ladro Un altro ladro Un disertore Utilizza un pugnale per colpire le spalle Un arco dell'esercito Non mi piace Un assassino che caccia nei ombri Utilizza principalmente stregonerie e armida No Stregone, no Stregone, piromante e chierico Non ho intenzione di fare Di scuola Non ho intenzione di fare Non ho intenzione di fare i classi di stregoni e piromanti Perché prima vorrei capire bene il gioco Magari in una run successiva Quindi Diciamo che a me Piacciono molto O Il cavaliere Che è un classico Oppure l'araldo E l'araldo La vitalità è uguale Armonizzazione Mi sa che l'araldo ha un pochino di No Sono uguali Tempra Nove È normale Questo è un po' più forte Però Come vi dico L'araldo ha già la possibilità di curarsi Quindi io ragazzi scelgo l'araldo Dono Sepolcrale Nessun Anello vitale Benedizione di vino Benedizione nascosta Bomba nera Gemma di fuoco Anima libera Moneta Dovano raggiungita Globo rosso inclinato Giovane ramo bianco Allora Anello vitale Dai pv E non mi interessa perché Benedizione divina Ridà la vita E non mi interessa Benedizione purissima Quattro di ripresenta il pv No Bomba nera Non mi interessa Gemma di fuoco Materiale utilizzato per potenziare l'anano Un oggetto adatto a un guerriere Certamente non un giocattolo No L'anima libera di chi dormiva al tuo fianco Usala per ottenere numerose anime Ok Oggetto curale usato nella sepoltura Aumenta di molto la scoperta oggetti Per un breve periodo Globo rosso inclinato Anche se a me stimola il giovane ramo bianco Ramo di giovane betulla bianca Forse un'offerta di pace Mimetizzati con l'ambiente circostante Uso simbolo Ok quindi da darsolzuno e darsolzuno Non abbiamo qualcosa di Che ti rimane per sempre A parte l'anello vitale Anche se a me ispira tanto l'anima libera Non lo so Perché ragazzi io prendo l'anima libera Ah Volti predefiniti Corporatura aspetta Allora ragazzi faccio un po' questo qui E poi ci vediamo tra un po' Ok ragazzi C'è stato anche un problema E E E Tattica se era riempita la memoria L'ho dovuta svuotare Adesso quindi l'inquadratura Potrebbe anche essere leggermente storta Invece no è dritta Ok Abbiamo fatto il nostro personaggio Non era proprio quello che volevo Perché c'è molto da giocare con i colori Adesso volevo provare il gioco Comunque gli ho fatto gli occhi gialli Gialli perché Gialli e vuoti Vuoti perché solera e non essere vuoto E gialli perché La luce del sole Comunque conferma creazione Avviare la partita con questo personaggio Si parte Dopo dovrò abbassare un po' l'audio Perché mi sta Le orecchie mi si stanno friggendo Si parte Si parte Ho scelto la ra... Leca... Madonna Guarda che graficozzo Tutto rispetto Usciamo da una tomba No Si Porchi di cenere Però già con l'armatura Quindi diverso Da Dark Souls 1 Più alla Dark Souls 2 Anche si Che si esce direttamente armati Cimitero della cera Va decisamente male Allora Vediamo un'altra Vabbè Fairy Ok Aspetta ma si può tenere caricato? Si Quindi c'è il colpo caricato Poi vabbè Si salta L'attacco Ok se clicco Ah anche qui c'è Una cosa... Allora Attacco potente Aggancia e rilascia il bersaglio Insomma E' shottato Perfetto Allora Eh passa in... Droppa qualcosa Non droppa nulla Allora si può andare di qua e poi lì c'è un drop Ah Proviamo a fare un parry? No non sta andando benissimo Backstep Vai la Ah Già però abbiamo tre fiasche test Però io il cavall... L'anima del cavalliere senza nome Ah che tra l'altro sarebbe Quindi... Ripaggiamento Questa la tolgo perché vorrei evitare Di utilizzarla Comunque Forse a questo punto... A questo punto forse quasi mi conveniva Eh... Utilizzare... Comunque si usano di nuovo i talismani E non più le campane Quindi... Come in darsos 1 Movimento... Ok... Del trappolozzo Anima di un cadavere abbandonato Vediamo cos'è... Ah no scusate... Inventario Lascia che la guardiana è nel foglio Assurano in quest'anno Senza padrone... Ok quindi no nulla di... Ah... Cerchi della via bianca quindi Un rimando gigantesco a darsos 1 Eseguiti al termine di assaltabilità Spezza scudi E attacca per perforare gli scudi nemici E ignorarne la guardia Tipico dei membri della via bianca Quindi noi siamo un membro della via bianca Ecco quando dice che siamo stati mandati in missione Perché essendo un membro della via bianca Noi siamo mandati in missione Ma come sappiamo tutti da darsos 1 La missione è praticamente liberarsi degli esseri vuoti E mandarli a morire Quindi è come se fossimo noi liroi Abilità preghiera Ok... Lo scudo a goccia Però questo è uguale allo scudo di Drangleic Via bianca le armature d'acciaio C'è Ok Quindi Intanto abbiamo capito un po' della nostra vita diciamo Siamo un membro della via bianca Siamo un araldo che fa parte della via bianca Fiaschetta destus cinereo Cosa? No 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 raga questa va vista Madonna non sono Ripristine il pia I non morti amano queste fiaschetta Riempie di essi stai falò E bevile per ripristinare il pia Una fiaschetta ad esso cinesta Tempera il calore di un falò Come si conviene una fiamma sopita Tempera il calore di un falò E infatti è fatta di ghiaccio Come si conviene una fiamma sopita Però non so quindi dovrebbe essere quella barretta blu guardia Vabbè sarebbe stato il backstab che non ho fatto Vabbè io magari provo a vedere se magari c'è qualche Come sai dice qualche muro sai Greto Già la prima imboscatina Calmi un po' Eh mo basta Che droppi anima morente Quindi anima No però c'era un tizio che mi ha sparato prima E non so che cosa Ah Povero illuso Raga però già è pieno di strade Io già mi perdo Già mi perdo Già mi perdo Allora Torna indietro E io col cazzo che torno indietro Adesso minimo ci crepo male eh Oh fuck What is it? Wow Eh No vado via perché non credo di essere pronta ad affrontarlo Assolutamente Però ci torneremo Fatemi un attimo No che fa viene fino a qua? No spero di no Sennò è un po' Un po' Un po' una presa in quel posto Allora andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Madonna mia Madonna i suoni Sfortuna che i suoni ti aiutano Perché vi giuro che Calcio Scusate com'è? No Ah ok Come in dar sol su No? Normale Parata le spime contro attacco dopo una parata Vabbè si il normale Il classico Perry e Ah qui dovremmo Dobbiamo andare avanti Si credo Si Raga qua già è pieno di strade Ripaggia arma a due mani Arte No scusate Ah si Cos'è arte del combattimento? Arte di combattimento a due mani Non mi piace il nuovo set della lancia quindi probabilmente la cambierò molto presto È tutto un cerchio è vero è darsos Tutti i posti si ricombacciano in un posto solo Ah lì c'è un castello quindi noi siamo praticamente fuori da un castello E costeggiamo i monti Questa qui per terra immagino sia cenere E non neve Quella dovrebbe essere la campana Falò Falò Io devo capire a cosa serve questo Questa cosa ma lo capiremo Allora riposa accanto al falò Riposa Ah ok Ah non mi fa fare nulla Quindi l'unica cosa che posso fare è Esci Sappiamo tutti che Che è vivo Ah no era morto veramente Non sono abituato a usare la lancia Non sono affatto abituato a usare la lancia Mi ha spezzato la corazza a quanto pare perché La lancia ragazzi si vede che non è il mio tipo di arma preferito perché E' utile perché ti ci ripari dietro Ah Qui si scende Di là si saliva Ah non so dove andare Vabbè seguiamo di qui la Pacca Però ho noto che lo scudo è molto utile per pararsi dalle cose di acce Bomba incendiaria ok Per massimo ragazzi a fine episodio mi leggo un po' le descrizioni Magari di queste cosine qui che magari voi sapete già cosa sono e non vi interessano Così giusto per darmi un'idea Ok lì si va di qua però qui mi diceva che io potevo saltare Salto qui e cado praticamente lì Ci devo tornare Ah frammenti titanite beh allora era importante a prendere Comunque ho capito cosa sbagliavo Sbagliavo il fatto che Ehm Eh per ora metto tutto poi vediamo come gestire il fatto del fat troll e di queste cose qui Ehm Il fatto che si salta con questo Con questo Sarebbe con l mentre io ero abituato a saltare con P Già un boss WTF No ho sbagliato sono un Sono un pirla volevo usare la lancia Volevo usare il coso curativo Eh però a quanto pare devo farlo per forza Signore Rimuovi la spada Questo mo si arrabbia Questo mo si arrabbia Questo mo si incazza Wow Non ti arrabbià Ti prego non ti arrabbià Eh no Eh ciao Allora Prima boss battle Ah Non è che gli facciamo troppo eh Ah Fatto la cazzata Oh mio dio Che schivatone Che schivatone De culo Ma Ok Ho un moveset Molto vario Molto vario Ok 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 Con calma con calma Aia Ho fatto un cazzatone Uh Mi è passata sopra la testa la lama Ah Ok Quella è una presa che vorrei evitare Wow 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 Non vedo più niente Non lo vedo più E questo mo che gli faccio io Mo che gli devo dire a questo Mi sembrava troppo facile come boss Ok 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 calma Calma non ci dobbiamo agitare Calmi Sbagliato Uff Non lo vedo non lo vedo non lo vedo Ah Uff Piano 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 Toglie tutta la stamina quella cosa E ho paura che shotti anche Fuck Tak Gundir il giudice Vai giù Vai giù Uuuuuh Erede del fuoco distrutto Oh Brace ripristinata Pada spirale Wow che figo Perché prendo fuoco Vuoi vedere che ogni volta Brace ripristinata Quindi uccidendo i boss Si ridà al fuoco potere E ridando fuoco al potere Cioè dando potere al fuoco Noi prendiamo potere E quindi diventiamo un tizzone vivente Vediamo un attimo Ehm Si volendo mettere un'altra arma Eh scusi eh A meno che non sia un'arma ma sia una chiave E infatti usa sul falò del santuario per vedere Spada mancante del falò del santuario Non può essere utilizzata come arma Conficca nel falò del santuario per ripristinare il potere E attivare il teletrasporto dai falò Quindi ridiamo potere alla fiamma Quindi le anime dei boss O comunque quello che ci droppano i boss Servono per ridare vigore alla fiamma Ridando vigore alla fiamma Prendiamo potere E ragazzi mi sono appena accorto che si è spenta la macchinetta Comunque adesso finiamo il video Poi viene tramandata solo al campione della cenere Che il giudice attende custodendo la spada all'interno del proprio corpo Wow Wow Davvero wow No accenniamo il falò Falò acceso Vediamo se riposiamo Ok E ancora Gundir il giudice Ancora non possiamo fare nulla Quindi ancora la dobbiamo piazzare la spada Dove la dovremmo mai piazzare? Eh Eeeh Lo sapevo che avresti sparato figlio di puttana No voglio esplorarlo bene Porca puttana Già i cani Ragà no i cani madonna quanto li odio Cadi? Madonna raga quanto odio i cani Pure i cani qua su darsostreno eh Ok oggetto Brace Vuoi vedere che questo è tipo l'umanità? Nessuna fiamma sopita potrà mai rivendicare le braci che bruciano nel petto di un campione Per questo il loro desiderio di calore arde con grande intensità Dona la forza della fiamma e aumenta i PV massimi fino alla morte Grazie al potere del fuoco i segni di evocazione delle altre fiamme visibili e potrai evocare altri cercatori di braci Ma fai attenzione le braci attraggono anche gli invasori Quindi non esiste più l'umanità ma la brace Quindi noi siamo dei tizzoni non più degli esseri vuoti Siamo dei tizzoni E le animi ci fanno bruciare Quindi il fuoco siamo noi e dentro di noi E la brace sarebbe l'efflige, l'umanità Quindi non esistono più i non morti Esistono solo i tizzoni spetti e i tizzoni accesi Quindi usando questo Diventiamo un tizzone acceso Che è quello che siamo adesso visto che abbiamo tutto intorno a noi un potere della fiamma Ragazzi siamo arrivati qui A questo qui che è un altare del vincolo E... Direi di fermarci qui assolutamente Ci fermiamo qui E... Ah! Avete fatto caso? Quando abbiamo ucciso quel tizio I nostri PV massimi sono aumentati Quindi siamo diventati Ci siamo accesi Quindi... Probabilmente siamo passati dall'essere vuoto Tra virgolette L'ex essere vuoto A... A umano Ok ragazzi Questo primo episodio di Dark Souls 3 è finito Mh... Mh... Io adesso... Rivedendo anche il video cerco di rielaborare quello che ho letto Quello che ho visto in modo tale da cercare di capire fin qui Quello... Che abbiamo fatto e cercare di costruire i pezzi della nostra lore Comunque... E... Io spero che il video vi sia piaciuto Sono 47 minuti che registro Tra pause sarà una quarantina di minuti Cercherò di tagliarlo In modo da farvi vedere un video più fluido Non troppo noioso E... Se le immagini vi siano piaciute Che magari abbiamo anche trovato un fondamento nelle vostre menti Magari abbiamo delle idee simili O magari la pensate diversamente Quindi lasciatelo sotto... Ehm... Nei commenti Quindi... Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti Condividete il video ovunque E... Mi raccomando Salutate questo non morto Perché... Anzi... Non è un non morto È un tizzone È un tizzone Salutatelo perché... Lo vedrete presto E un'ultima cosa Mentre lui vi saluto Vi saluta Ciao Ciao